allora piazza donatori di sangue qui c'è l'ennesima volta che noi veniamo qui sotto al parcheggio è un nostro modo per continuare a fare questa denuncia non è possibile che qui dentro si venga a spacciare a rubare a dormire e non si sa poi chi ci viene chi non ci viene proviamo a fare questo servizio insieme a voi vediamo che succede allora qui lo solito schifo ovviamente chi viene a dormire porta anche i cani a terra c'è di tutto l'odore è molto forte e nauseante qui si viene guardate bene a fare di tutto anche a giocare al grattivinci si beve il vino ci sono i festini e quant'altro vabbè l'abbiamo detto e ridetto non è cambiato nulla noi scusate se insistiamo ma amiamo troppo il nostro territorio questo è un motorino abbandonato rubato fate voi però e qui da molto tempo è stato segnalato non ha la targa niente anche qui gratta e vinci andiamo avanti voi seguitemi poi alla fine è giudicata io vi faccio vedere solo le immagini se questa può essere una società civile guardate lo schifo che c'è a terra ecco qui andiamo insieme verso l'ascensore questo è quello che rimane l'ascensore le bottiglie per fumare il crack non è un problema non interessa a nessuno le salite e le siringhe ma non è un problema non interessa a nessuno andiamo avanti guardate lo schifo questo è piano sotto non veniteci mai da soli eh mai qui ci dormono eccolo qua bottiglie di birra pantalone anche gantt vabbè ma non interessa a nessuno non è un problema perché dovrebbe interessare a qualcuno andiamo avanti qui il solito cibo qui il pannello elettrico smontato guardate i danni ma tanto a chi interessa sono solo soldi pubblici giusto figuriamoci qui sotto siringa in fondo dove metto la luce guardate bene perfetto continuiamo così esaliamo qui nessuno viene a pulire ovviamente tanto a chi interessa è solo terra guardate che schifo ecco qua siamo quasi a giugno a terramo nel 2022 e non si riesce a chiudere un cancello